A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo Goku Super Saiyan Full Power e oggi ci troviamo qui nella foresta occidentale ai piedi dell'obelisco di Balzar per andare appunto a fare una nuova missione secondaria per quel gattaccio bianco con il bastone che vedete lì dietro ovvero il nostro caro Balzar! Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto lo scorso episodio in cui ragazzi siamo andati a fare un nuovo allenamento con Goku che è stato abbastanza tosto abbiamo sbloccato la sfera Genki Dama X davvero gigantesca e distruttiva a livelli incredibili e poi l'abbiamo testata contro dei nemici casuali quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! Detto questo adesso concentriamoci su questa missione secondaria ne abbiamo da fare tante raga in totale sono 5 ma oggi faremo solo questa qua prossimamente vi porterò ovviamente anche le altre allora la missione appunto è di Balzar e qui ragazzi dice a Korin servono dei particolari funghi che crescono in una caverna perfetto vai a cercarli ma ragazzi ma dico io ma Balzar non si vergogna di mandare Goku a prendere questi funghi dalla caverna non può alzare lui il culo e andare appunto a prendere sti funghetti le gambe ce le ha si può anche muovere lo so che è una missione secondaria e il gioco è fatto così però ragazzi voglio dire pensandoci un attimo perché proprio Goku perché va a chiedere proprio a Goku e non a un altro personaggio ma soprattutto perché non alza lui il culo dalla sedia e non va lui a prendere sti funghetti visto che comunque può camminare può muoversi ecco quindi non lo so ragazzi mi dà fastidio sta cosa che i personaggi possono muoversi possono fare loro le cose e ci danno a noi i compiti ok che sono missioni secondarie ma fino a un certo punto voglio dire cioè non possono appunto dare tutti a noi questi compiti possono anche muoversi loro poi fatemi sapere la vostra comunque ragazzi l'area è la foresta occidentale e ci siamo già il periodo di tempo è perfetto infatti ragazzi dobbiamo fare sta missione da arrivano gli androidi episodio 8 il successore di dio a episodio 8 il successore di dio quindi va fatta adesso se no poi ce la perdiamo ricompense completamento abbiamo 158.099 punti esperienza che non sono pochi 5 medaglie di che ci fanno comodo e un cappuccio animale multiuso mai visto prima raga è un dono credo nuovo non l'ho mai visto prima quindi perfetto adesso possiamo tranquillamente andare dal nostro caro gattaccio balzar ragazzi ci troviamo nella foresta occidentale ai piedi dell'obelisco come vedete qui c'è tutta la colonna che porta all'obelisco di balzar quindi qui abbiamo il nostro caro gattaccio raga bello sorridente con il bastone in mano facciamo parla vediamo un po' ok ragazzi allora tutto piccolino tra l'altro bello sorridente raga guardatelo ma quanto è bello ok balzar dice mmm ok già sta pensando vediamo ciao balzar che stai facendo mi sa che sta dormendo raga oh ho capito sei un super saiyan per questo non ti riconoscevo ah non aveva riconosciuto goku perché hai capelli insomma biondi e quindi siccome un super saiyan non lo riconosce assurdo raga oddio scusa hai ragione mi dimentico sempre che quando sono un super saiyan sembro totalmente diverso e immagino raga effettivamente hanno ragione i personaggi che non riconoscono goku subito comunque è un cambiamento notevole dei capelli ecco beh anche se il tuo aspetto è differente sei sempre il solito goku ecco goku che si gratta la testa raga intanto quando appunto si imbarazza allora che succede c'è qualche problema non proprio però volevo chiederti aiuto per una cosa sentiamo ragazzi tanto qui siamo abituati nelle missioni secondarie ad accettare tutto quello che ci chiedono sentiamo eh di che si tratta vorrei preparare un buon tè di funghi ragazzi non ho mai sentito parlare di un tè fatto con i funghi cioè assurda sta cosa lo sto apprendendo adesso da questa missione secondaria oh mio dio ma a quanto pare li ho finiti ed ecco che manda goku subito a prenderli sentiamo un tempo era il tuo maestro muten a raccoglierli per me quando lo allenavo quindi ragazzi tanto tanto tempo fa quando balzar allenava ancora il maestro muten appunto il genio delle tartarughe era lui a raccogliere questi funghi per balzar adesso che non c'è più e non credo che da vecchio lo faccia ancora chiede a goku ecco visto che li ha finiti chiede a goku una mano sul serio il maestro muten è già a quanto pare raga ok intanto la visuale raga cambia ce lo vediamo da vicino questo gattaccio in realtà è bravissimo però mi piace chiamarlo gattaccio bianco ok sono passati anni dall'ultima volta immagino raga crescono in una particolare caverna ok perfetto l'area circostante non è cambiata molto quindi dovrebbe essere ancora accessibile speriamo raga così il tutto è semplicissimo mi spiace doverti disturbare ma potresti raccogliermene qualcuno mi sono ricordato che ho delle faccende da sbrigare ecco ragazzi che chiedono sempre una mano a goku meno male che il nostro caro balzar ha chiesto questo favore a goku in modo educato e pacifico e non lo ha chiesto in modo brusco quindi meno male se no non avremmo fatto la missione già vi avviso perché già ci sta chiedendo un favore se poi lo chiedeva in modo brusco e cattivo insomma non l'avremmo aiutato sicuro raga invece si è comportato benissimo quindi lo aiutiamo a questo gattaccio ok quindi avanti ok ragazzi quindi la missione si chiama problemi di animalina credo si dica così è una parola nuova quindi la descrizione raga l'abbiamo già letta ricompensa e storia già lette livello consigliato 47 noi siamo di livello 47 infatti aiutare il maestro balzar si ragazzi ecco che inizia la missione problemi di animalina perfetto e abbiamo balzar in prima visione raga proprio davanti ok certo perché no ok ragazzi goku che aiuta sempre i suoi amici quando mai dice no ma anche gohan aiuta sempre tutti te ne sono grato ecco la posizione della caverna vediamo ragazzi la posizione è stata segnata sulla tua mappa quindi dovrebbe essere in teoria molto molto semplice a meno che non ci saranno dei nemici che ci bloccheranno dal prendere questi funghi tutto chiaro torno subito perfetto raga grande goku che aiuta sempre tutti soprattutto questo gattaccio balzar buona fortuna addirittura raga buona fortuna io penso sarà semplice in realtà ok vediamo un po' problemi di animalina vai verso il centro del continente ok dalla mappa del mondo quindi ragazzi sentiamo che cosa ha da dire balzar parla buona fortuna basta solo quello dice raga oddio si è incantato il disco buona fortuna e basta come se dovessimo fare qualcosa di difficile adesso apriamo la mappa facciamo vai alla mappa del mondo e ci dobbiamo spostare verso appunto il centro del continente che dovrebbe essere questo posto qua si ragazzi dove c'è guarda caso l'arena del cell game quindi ragazzi centro del continente arena del cell game quindi vai si oh eccoci qua ragazzi allora vediamo un po' raggiungi la cava dove trovare gli ingredienti per il tè di funghi usando Goku quindi apriamo la mappa vediamo subito qui vedo che c'è il punto raga vediamo problemi di animalina quindi ci mettiamo il segnalino quindi è lì che dobbiamo andare eccolo là ragazzi ecco lì la luce gigantesca quindi con Goku potentissimo ci andiamo dai andiamo a sta cava prendiamo i funghetti per balzar visto che ce l'ha chiesto gentilmente raga aiutiamolo dai ok qui c'è una cava si ragazzi effettivamente c'è una grotta io mi aspetto già dei guai ecco già c'è qualcosa ragazzi attenzione già vedo delle persone chi sono questi chi sono costoro oddio raga sono degli orsi oh mio dio a parte che qui raga abbiamo un oggetto ah ma c'è un muro raga oh mio dio c'è un muro invisibile raga non ci permettono di andare oh mio dio facciamo parla uno è un orso e l'altro è la tigre raga oddio vediamo uomo bestia A oddio ragazzi ma che cavolo di nome è dovrebbe essere il nome di quest'orso a sinistra perché è un orso e questo a destra è una tigre ma che nome è ma poi chi sono questi raga non li abbiamo mai visti prima adesso lo scopriremo intanto questo uomo bestia A dice non avvicinarti non ci fidiamo degli umani allora primo Goku è un saian anzi in questo momento è un super saian full power quindi raga mamma mia quindi non è un umano e poi non so quale trauma avete avuto da questi umani che cosa vi hanno fatto perché non vi fidate di loro che cavolo vi hanno fatto scopriamolo vediamo ehi calma non vi ho fatto niente dice Goku giustamente devo prendere una cosa nella caverna giusto ragazzi tra l'altro c'è questo muro invisibile che non ci permette di entrare forse perché dovevamo parlare per forza con loro no? uomo bestia B dice sei venuto a prenderti il gioco di noi vero? vattene oddio ragazzi stanno cacciando Goku ma perché? cioè questi hanno avuto dei traumi incredibili non lo so dagli umani li avranno fatto qualcosa li avranno presi in giro ed ecco che adesso si comportano in questa maniera stanno sempre sulla difensiva insomma quindi oddio vediamo quei tipi sono proprio irascibili giusto ragazzi lo abbiamo notato con loro in mezzo non potrò mai prendere i funghi ecco e adesso che facciamo in questa situazione forse dovrei tornare indietro vediamo ragazzi che la cosa si sta facendo davvero interessante magari Goku torna indietro a mani vuote poco lo credo ma vediamo oddio vediamo raga Goku se ne va esce insomma non so che problema abbiano ma non sopportano gli umani eppure io non lo sono infatti lui è un super saiyan al momento oddio raga però non me la sento di lasciar perdere così attenzione non posso neanche portare qui Bazar dopo tutto a una certa età anche se non sembra infatti ma io ragazzi l'ho detto che doveva venirci da solo Bazar adesso tutti sti problemi sono i nostri ecco sono di Goku sì andrò a parlare con Oscar perfetto raga non mi aspettavo questa cosa quindi vai vediamo Oscar Oscar ecco teletrasporto raga si va direttamente da Oscar ah l'ha portato qui ragazzi oh mio dio Oscar oddio perché mi hai portato in questo postaccio io non ci volevo venire oh mio dio raga oddio andiamo Oscar non avevi altro da fare no e poi ho davvero bisogno del tuo aiuto oddio raga quindi cerchiamo di capire perché appunto ha portato qui Oscar di quale aiuto ha bisogno Goku vediamo forse deve convincere questi animali è vero che non avevo di meglio da fare però qui non c'è neanche una ragazza eh madonna raga questo qui Oscar che pensa sempre a ste cavolo di ragazzi oddio oddio uomo bestia dice tu non sembri un umano hai preso dell'animalina anche tu ragazzi io non ho mai sentito parlare di questa animalina sarà qualcosa che si prende per diventare tipo animali ecco perché ci sono gli animali in Dragon Ball questa cosa qui ragazzi vediamo eh io sono così da quanto sono nato lui è proprio un porco raga è proprio un maiale un maialino tu sei nato così allora devi aver sofferto molto più di noi oddio ragazzi ma sta diventando una seduta terapeutica tipo non lo so qualcosa del genere questi qui sono depressi poi Oscar che magari ha sofferto anche lui da piccolo ora non lo sappiamo comunque sta diventando veramente una seduta dallo psichiatra una cosa del genere oddio allora che problema avete infatti sentiamo Oscar si incazza giustamente forse non sembra ma in realtà siamo umani quindi hanno preso l'animalina ragazzi ho capito bene abbiamo preso dell'animalina ecco per diventare uomini bestia ma ora non riusciamo a ritrasformarci ah hanno combinato un casino immagino e ora che la mania dell'animalina è finita in giro non si vedono più uomini bestia ah ecco quindi sono più le persone diciamo normali che gli uomini bestia quindi non se ne vedono più in giro è finita la moda ecco se tornassimo a casa così diventeremmo lo zimbello della città ecco ragazzi questi qua hanno traumi hanno problemi ecco ti prego aiutaci trovo un modo per farci tornare umani ok vediamo ragazzi la missione si sta trasformando insomma allora che vuoi fare Goku sentiamo brutta storia ecco che interviene lui e dice brutta storia allora se vi faccio tornare normali voi mi farete entrare nella caverna devo trovare dei funghi che crescono solo là dentro speriamo che dicono di sì sì certo tutti contenti raga mi sanno anche simpatici devo dire la mia amica Bulma troverà sicuramente una soluzione andrò a parlarle perfetto vediamo raga sicuramente ci dobbiamo andare ci aiuterai va bene farò il possibile dice Goku raga sicuramente lo faremo grazie per aver parlato con loro Oscar eh tutto qui mi hai fatto venire fin qui solo per questo incazzato raga oddio beh rientriamo ehi sei sordo madonna raga e Goku non lo calcola nemmeno oddio non le ha neanche risposto alla domanda ecco ok ragazzi Goku riporta Oscar a West City perfetto ci viene descritto il tutto con questa schermata avanti ok siamo alla capsule corpo ragazzi uffa non sono mica un attrezzo da usare solo quando ti fa comodo dice Oscar mamma mia ragazzi oggi Oscar la mentele al 100% mamma mia su non fare così è stato semplice no non hai dovuto fare quasi nulla hai dovuto solamente parlare con quelli là non sei cambiato affatto continui a tracinare la gente nei tuoi problemi come se nulla fosse ma in realtà ragazzi la missione di chi è è di Balzar quindi è Balzar chi ci ha tracinati appunto nei suoi problemi e Goku tracina anche altre persone con sé oh mio dio è un casino totale raga oddio sul serio non ci ho mai fatto molto caso beh andiamo da Bulma ecco cambia discorso raga Goku ecco è proprio di questo che sto parlando oddio raga che situazione imbarazzante per Oscar oh mio dio allora siamo alla capsule corp vediamo parla con Bulma e scopri come guarire l'uomini bestia usando Goku perfetto ragazzi quindi non ci resta che andare qui nella stanza dove di solito c'è Bulma vediamo raga dov'è ed eccola la raga c'è anche c16 voglio parlare con c16 usando Goku parla non ho niente da dirti mamma mia raga non mi aspettavo fosse qui c16 nel senso qui in piedi non mi aspettavo di trovarlo come personaggio ecco parliamo niente raga non si parlano i due è vero che si incontreranno al cell game e neanche lì si parleranno più di tanto però è strano raga mamma mia però quanto è alto raga c16 rispetto a Goku mamma mia comunque è bello vederlo qui raga parliamo con Bulma parla allora costruisci qualcosa chiede a Bulma dell'animalina vai questo è questo che ci interessa raga in questo momento allora ehi Bulma ah Goku che ci fai qui sentiamo raga sai niente di una medicina chiamata animalina di regola ragazzi per quanto è intelligente Bulma dovrebbe conoscere questa medicina vediamo certo si tratta di un siero sviluppato dalla Magical Pharma oh chi lo assume si trasforma in un uomo bestia e io ragazzi sta cosa non la sapevo l'ho imparata adesso con voi in questo episodio nel gioco cioè non abbiamo mai avuto una vera e propria spiegazione nell'anime del perché c'erano il sindaco cane i cani poliziotto e roba così no oppure gli orsi le tigri e roba varie gli animali al posto delle persone no quello intendo avanti quando avevo dieci anni andava molto di moda quindi nel passato quando Goku era piccolo persino Re Furry lo prese e diventò un uomo bestia ecco ragazzi ecco il Re Furry mi ricordavo bene a parte il sindaco c'è anche il Re se non sbaglio da qualche so ormai nessuno lo usa più ma perché me lo chiedi? ho incontrato delle persone che hanno preso dell'animalina potenziata e ora non riescono più a tornare umani speriamo che Bulma ci possa dare una mano animalina potenziata non ne ho mai sentito parlare oh cavolo e adesso? e tu che mi dici? oddio ragazzi a parte che non mi aspettavo che introducessero C16 in questa missione cioè nel senso pensavo sarebbe stato a parte ok ma siccome lui diciamo se ne intende di animali ci potrebbe dare una mano tra l'altro vedo che c'è sul suo logo Red Ribbon il logo capsule corp adesivo fantastico raga siamo già molto vicini appunto al Cell Game nel senso tutti i tasselli si stanno mettendo a posto perché poi C16 lo vedremo con questo stemma con questo logo della capsule corp adesivo sopra a Red Ribbon quindi Bulma si rivolge a C16 sentiamo cosa dice io sono stato creato con il solo scopo di distruggere Goku oddio ragazzi non lo aiuterò oh mio dio non vuole aiutare Goku solo perché lo deve distruggere quindi non darà una mano oddio andiamo a me puoi dirlo e poi tecnicamente non devi aiutare Goku ma quegli uomini bestia giusto infatti e non parla raga ci rimane male C16 sentiamo dai aiutalo purtroppo è una situazione un po' assurda C16 dai e va bene Goku fatti un giro magari senza te nei paraggi si deciderà a parlare mannaggia raga che situazione imbarazzante oddio cosa ecco ora va meglio dice Bulma C16 molto bene sono in debito con te quindi te lo dirò ok fantastico ottimo ora che Goku non c'è spute il rospo ma raga ma che cosa sta dicendo Goku è qui non se ne è andato che cavolo sta dicendo Bulma ora che Goku non c'è sta qui ma che cavolo non lo vede oh mio dio raga forse se ne deve andare ah ok perfetto secondo la mia banca dati il Red Ribbon prendeva partite di animalina scadente per rimpinguare le proprie casse oddio raga C16 sa tutto su quello che faceva il Red Ribbon mamma mia che cavolo di roba mai me lo sarei aspettato forse la causa è questa può essere quindi non è potenziata questa animalina ma è scadente davvero quindi potrebbero esserci ancora scorte di quella roba conservate da qualche parte e penso di sì eh già raga sono trascorsi più di dieci anni credo che ormai non sia rimasto più nulla ok ne è convinto vediamo raga se avessi potuto analizzare quell'animalina scadente forse avrei trovato il modo di contrastarne gli effetti eh già Bulma avrebbe potuto farlo vediamo ok raga Goku è tornato dal giro sì allora è così mi dispiace ma a quelli uomini bestia servirà un aiuto dall'alto oh mio dio raga dall'alto ma no aspetta trovato scommetto che Mr. Popo sa qualcosa già sta per teletrasportarsi raga oddio guardiamo ecco e se ne va va da Mr. Popo adesso sta cosa non me l'aspettavo ed eccoci qua ragazzi al palazzo del supremo vediamo un po' ecco che appare Goku ehi Mr. Popo devo parlarti hai un secondo in realtà sta libero quindi di regola sì di che hai bisogno Goku tutto serio raga Mr. Popo mai un sorriso fa grazie allora esiste una cosa chiamata animalina che fa trasformare le persone in uomini bestia perfetto fin qui ci siamo alcuni tizi ne hanno assunto una dosa variata e non riescono a tornare umani conosci un modo per aiutarli vediamo raga speriamo che Mr. Popo ci dia la soluzione forse sì conosco la ricetta di un antidoto in grado di annullare gli effetti di qualsiasi sostanza interessante attenzione raga Mr. Popo potrebbe essere seriamente la risposta però mi servono degli ingredienti particolari e qualcuno che mi aiuti a preparare l'antidoto ok va bene bene io andrò a recuperare gli ingredienti per il resto potrebbe aiutarti Bulma perfetto raga quindi dobbiamo andare forse con Goku a prendere questi ingredienti ecco ciò che mi serve sentiamo ok ragazzi oggetti necessari tre erbe di qualità quattro lumaca fluviale polposa e un corna di gazzella d'oro perfetto vediamo se qualcosa non ti è chiaro fammelo sapere no credo che sia tutto chiaro raga ho capito grazie Mr. Popo ok raga vediamo se abbiamo già qualche oggetto di questi qua vediamo un po' qui ci dice raccogli gli ingredienti necessari per l'antidoto degli uomini bestia usando Goku ovviamente quindi erbe di qualità zero su tre non ne abbiamo lumaca fluviale polposa tre su quattro raga quindi ci siamo vicini corna di gazzella d'oro niente quindi vediamo un po' di prendere questi oggetti allora ragazzi non è stato affatto facile trovare i vari punti in cui trovare gli oggetti che stiamo cercando mi sono dovuto girare parecchi luoghi della mappa del mondo fin quando non ho trovato ciò che cercavo adesso che so i punti dove si trovano possiamo prendere appunto questi oggetti assieme allora erbe di qualità ragazzi diciamo che non sono difficilissime da trovare ma un punto fondamentale è questo qua ragazzi alla palude di blake in questo punto dove c'è proprio la palude quindi raga non ci resta che scendere qui ci sono anche le gazzelle gazzelle normali quindi raga dobbiamo praticamente trovare gli oggetti gialli qua vicino qua vicino al laghetto quindi ci basta andare qui ragazzi perfetto vedete erbe erbe di qualità uno guardiamoci un attimino attorno vediamo qui ragazzi abbiamo questi oggettini gialli basta raccoglierli e abbiamo le erbe di qualità ecco ragazzi 5 su 3 addirittura quindi abbiamo trovato ciò che cercavamo adesso passiamo agli altri oggetti mentre per trovare appunto corna di gazzella d'oro dobbiamo prima trovare una gazzella d'oro ed eccola qui ragazzi la troviamo sempre qui alla palude di blake in questo posto ragazzi ci siamo spostati di pochissimo e appunto come potete ben vedere ci sono varie gazzelle gialle con il key normale e abbiamo una di color arancione quasi rossiccio quella lì è la gazzella d'oro la dobbiamo prendere e sperare che ci esca fuori appunto corna di gazzella d'oro perché non è affatto facile quindi raga scendiamo corriamo subito facciamo prendi non mi sfuggirai ecco qua ragazzi corna di gazzella d'oro per 2 quindi siamo stati assolutamente fortunati quindi fantastico ragazzi però se per caso appunto questa gazzella d'oro qui non vi droppa corna di gazzella d'oro potete provare nei dintorni dell'arena del sale game lì ragazzi c'è un altro luogo c'è una persona che vi dirà ci sono delle gazzelle dorate lì andate lì e trovate appunto quella di colore rosso arancione insomma e vi droppa sicuramente corna di gazzella d'oro quindi se non lo fa questa qui questa gazzella d'oro qui ve lo droppa quell'altra insomma più o meno funziona così ragazzi ho provato io personalmente e ha funzionato mentre per trovare la lumaca fluviale polposa bisogna andare qui ragazzi vicino al fiume insomma della gola orientale quindi in questo preciso punto raga guardate bene e qui appunto a parte che c'è raga un'altra gazzella dorata e non me l'aspettavo qui quindi fantastico qui ragazzi in questo preciso punto dove c'è la cascata ce l'avete davanti basta prendere questi appunto oggetti rossi guardate attenzione ecco ragazzi ce l'abbiamo fatta Goku dice bene dovrebbe essere tutto quindi abbiamo preso la lumaca fluviale polposa ce ne servivano credo quattro e appunto io ne avevo già tre così ragazzi non so neanche il perché ne abbiamo presa una e quindi diciamo che questa parte della missione si è completata abbiamo preso tutti gli oggetti quindi Goku dice ok bene dovrebbe essere tutto quindi avanti devo consegnare subito queste cose a Mr. Popo e si ragazzi perché il nostro caro Mr. Popo deve creare l'antidoto con questi oggetti per curare gli uomini bestia quindi avanti ok ragazzi quindi porta a Mr. Popo gli ingredienti per l'antidoto usando Goku perfetto raga quindi abbiamo tutti gli oggetti adesso apriamo la mappa e ragazzi vai alla mappa del mondo e ci spostiamo ovviamente al palazzo del supremo quindi vai si ed eccoci qua ragazzi perfetto quindi siamo pienissimi di oggetti che servivano andiamo subito da Mr. Popo che dice ecco fatto Goku dovrebbe tornare a breve infatti siamo qua raga ok sono contento che stiamo aiutando quegli uomini bestia parla ehi Mr. Popo sono tornato ok Goku ha dato gli oggetti ok hai consegnato il necessario perfetto oh ok ora vado a prendere Bulma ok ragazzi quindi Goku va alla capsule corpi immagino ok raga tutto sta andando per il meglio ok ora che Bulma è al santuario di Dio può preparare l'antidoto con l'aiuto di Mr. Popo quindi Mr. Popo che collabora con Bulma assurdo raga oddio questa non me la sarei mai aspettata diverse ore dopo sì vediamo ok ragazzi Bulma e Mr. Popo l'antidoto è pronto mi fa piacere raga quindi possiamo curare quegli uomini bestia e poi prenderci funghi in quella caverna di regola finalmente mi ero stancato di aspettare oddio raga Goku sempre impaziente ok hai ottenuto antidoto di Mr. Popo perfetto chissà ci potrebbe anche tornare utile in futuro raga no incredibile in tutto il mondo non esiste una medicina del genere dice Bulma oddio quindi è una cosa rarissima raga quella che abbiamo fatto infatti è stato anche particolarmente difficile prendere quegli oggetti ok alcuni erano facili alcuni erano difficili no se la mia azienda la producesse in massa potremmo aiutare tutti coloro che soffrono di quegli effetti collaterali e certo raga Bulma ma cosa aspetti cioè se la tua azienda producesse appunto tutto ciò potrebbe salvare un sacco di vite no di quegli uomini bestia quindi fallo metti a produrre questa medicina questo antidoto e salva la gente gli darò un'occhiata perfetto pensaci tu io andrò a portare l'antidoto agli uomini bestia perfetto raga immagino che Oscar non ci sarà stavolta no già si era lamentato prima ok ragazzi Goku torna dagli uomini bestia e consegna loro l'antidoto mi fa piacere ovviamente questo era il nostro obiettivo raga no ok perfetto wow non ci credo siamo di nuovo umani quindi raga non ci hanno fatto vedere la scena grazie infinite finalmente possiamo tornare in città e condurre delle vite normali mi fa piacere addio caverne puzzolenti oddio eh eh buon per voi raga tutti contenti e felici ah aspetta questi sono i funghi di cui avevi parlato oddio hai ottenuto fungo segreto oddio raga questa non me l'aspettavo hanno raccolto loro il fungo segreto per Goku assurdo ci hanno dato una mano sono stati gentilissimi avanti oh sì almeno credo e sì raga speriamo di non sbagliarci bene ora devo proprio scappare eh già raga abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo aiutato il prossimo anche oggi ah beh eh che altro c'è infatti sentiamo em non credi che dovresti darne un po' anche a quel maiale che diceva di essere nato così oddio si dispiacciono per Oscar il maialino raga oddio ma sono tenerissimi questi ragazzi questi uomini tra l'altro li abbiamo visti raga prima sotto forma di uomini bestia e adesso sotto forma di umani normali no quindi fantastico sì forse tornerà umano anche lui no ma lui è nato così ragazzi non credo che cioè lui è un mutaforma quindi non credo c'entri nulla ecco parli di Oscar nah sono sicuro che lui sta bene così quando mai Goku dice nah oddio raga assurdo in fondo può trasformarsi a piacimento ecco questo loro non lo sapevano oh va bene ok comunque sia grazie non dimenticheremo mai la tua gentilezza ma ragazzi cioè praticamente gentilezza è il secondo nome di Goku e di Gohan cioè sono tutti e due gentili aiutano il prossimo quando mai Goku e Gohan si comportano male con il prossimo aiutano quando possono da quello che so scommetto che Balzar sarà molto felice e infatti dobbiamo pensare alla missione iniziale perché ce ne siamo andati a fare altre cose ma in realtà dobbiamo portare i funghi immediatamente a Balzar vai ok ragazzi vediamo come si svolge il tutto ok ragazzi siamo all'obelisco di Balzar stavolta non è stato facile ma ho trovato i tuoi funghi e intanto raga il nostro caro gattaccio bianco Balzar è bello contento mamma mia come sorride ha gli stessi occhi di Majin Bu mi ricorda Majin Bu quel viso hai consegnato fungo segreto a Balzar perfetto vai ottimo ti ringrazio ok ragazzi storia completata perfetto è stata un po' dura un po' difficile ma ce l'abbiamo fatta congratulazioni ricompense storia 158.099 punti esperienza 5 medaglie D e un cappuccio animale multiuso vai perfetto raga sono contentissimo ok la missione quindi è stata completata vediamo che altro succede userò quelli peggiori per preparare il tè di Shirobai così impara oddio raga una punizione per Shirobai quindi userà i funghi peggiori di quelli che ha trovato Goku appunto per preparare il tè a Shirobai e non per se stesso che maledetto raga ma io lo dico sempre che è un gattaccio monello questo oddio ehi Balzar potrei assaggiare un po' del tuo tè quando l'avrai preparato penso che dirà di sì dai visto che quei funghi sono così rari deve essere delizioso no? beh certo raga anche io lo immagino ecco eh? no il sapore è orrendo ma come? vabbè poi raga pensandoci il tè di funghi ma che diavolo è? ce l'ho detto anche prima oddio cosa? e allora perché lo bevi? infatti cerchiamo di capire perché fa bene alla salute ah ok quindi tipo un medicinale raga cioè non è che è buono però lo beve perché fa bene ok? non è che deve essere buono al gusto ecco hai centinaia di anni sulle spalle e ti preoccupi per la tua salute? eh certo lo deve pur fare raga no? ok vediamo che cosa accade ah è finito il tutto raga perfetto perfetto ok Goku a quanto pare non è salito di livello con quell'esperienza perché era poca ora che questa storia è finita posso tornare ad allenarmi è altro che raga se lo faremo quindi prossimamente poi quando potremo faremo anche degli allenamenti insomma ragazzi oggi appunto abbiamo completato questa missione secondaria chiamata problemi di animalina che non mi aspettavo fosse così lunga mi aspettavo che fosse così corta vai lì vai nella caverna prendi i funghi e li porti appunto a Balzar e invece ragazzi abbiamo aiutato il prossimo più volte abbiamo aiutato sia Balzar con i funghi e sia appunto anche quegli uomini bestia con la medicina con l'antidoto che hanno creato Bulma assieme a Mr. Popo ma anche Oscar e C16 hanno dato la loro mano in questa storia e sono davvero contento di questo sinceramente non mi aspettavo proprio C16 in questa missione raga anche se era lì alla capsule corp non mi aspettavo che intervenisse quindi questa è la cosa che mi ha stupito di più e soprattutto oggi in questo episodio almeno io ho scoperto il perché ci sono gli animali in Dragon Ball che parlano si muovono come le persone ovvero prendevano l'animalina questa medicina che ti fa diventare praticamente un uomo bestia quindi raga sta cosa non me la sarei mai aspettata e sto gioco ci sta dando un sacco di risposte su domande diciamo lasciate in sospeso riguardo l'anime quindi sono davvero contento di questo ovviamente ragazzi fatemi sapere la vostra su tutta questa missione secondaria io mi sono divertito molto a portarvela e poi mi sono divertito anche a vedere la reazione di C16 quando Goku si è avvicinato oh mio dio poi gli uomini bestia con i traumi raga insomma un sacco un sacco di roba fatemi sapere appunto se vi è piaciuta fatemi sapere se l'avete già fatta o appunto se questo video ragazzi vi è stato d'aiuto anche magari nel trovare quegli oggetti che non sono facili da trovare quindi magari oltre a essere un episodio così divertente è stato anche un po' una guida quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò a Grazie a tutti.